Libertà è onorata di avere ricevuto da Piacenza nel mondo il riconoscimento di Piacentino Benemerito del 2023 da parte delle comunità degli emigrati del nostro territorio. Libertà ringrazia per questo attestato. A nome della redazione ribadisco il nostro impegno a continuare a raccontare, come è stato fatto oramai da decenni, le vicissitudini di tanti nostri fratelli di territorio che hanno cercato altrove opportunità di miglioramento delle loro esistenze, orizzonti più larghi. In un territorio dove si concentrano le radici familiari di queste persone e dove si concentra un universo emozionale incancellabile. I nostri emigrati sono una testimonianza di laboriosità e di onestà in tantissimi paesi di tutto il mondo e quindi sono un punto di visibilità della migliore piacentinità. Confermo qui l'impegno della redazione di Libertà a continuare a narrare le vicissitudini, i percorsi dei nostri piacentini all'estero che sono nel nostro cuore la patria che non ha nessun confine.